Ad Agropoli finanziato il progetto per l'installazione di 36 nuove telecamere di videosorveglianza, grazie alla firma del patto per l'attuazione della sicurezza urbana tra il sindaco Roberto Mutalipassi e la prefettura di Salerno il 5 ottobre 2022, è stato possibile trasmettere dalla prefettura il progetto elaborato dell'area vigilanza e polizia locale guidata dal Maggiore Antonio Rinaldi. Il progetto, che richiederà una spesa complessiva di 180 mila euro, di cui circa 31 mila a carico del comune, è stato ritenuto idoneo e si è classificato tra le 93 proposte progettuali ammesse a finanziamento per i comuni con una popolazione compresa tra 20 mila e 49 mila abitanti. Il Ministero dell'Interno, nell'ambito del POC Legalità, ha stanziato 30 milioni di euro per finanziare progetti di videosorveglianza integrata, realizzata dalle amministrazioni locali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il comune di Agropoli è riuscito a beneficiare di questi fondi per il proprio progetto. Il progetto prevede l'installazione di 36 nuove telecamere, di cui 17 con funzione di lettura delle targhe e altre 19 di contesto e sicurezza. Queste telecamere saranno fondamentali per attività di controllo del territorio e per contrastare l'abbandono dei rifiuti. All'interno del progetto è stato previsto l'allestimento di una sede operativa di controllo dei dispositivi presso il comando di Polizia Municipale e un'altra presso la sede del comando Compagnia Carabinieri di Agropoli. Le telecamere verranno posizionate all'ingresso e all'uscita della città al porto nelle frazioni e nel centro cittadino.